La cardiochirurgia dell'azienda Ospedale Riuniti di Ancona, come in pochissimi altri centri in Italia e in Europa, è in grado di offrire tutti i più moderni approcci per il trattamento della patologia valvolare e degli aonerismi aortici. È sicuramente vero che la cardiochirurgia di Ancona esprime una cardiochirurgia di altissimo livello, sia per quelli che sono i volumi, i risultati e anche il contenuto di innovazione che riusciamo a generare qui. Negli ultimi anni sono stati sviluppati innovativi approcci mini-invasivi ed acquisito tecniche per la miglior cura del singolo paziente. A riguardo i numeri parlano chiaro. Grandi realtà milanesi, ad esempio, non superano i mille interventi o girano intorno a quei numeri lì. Noi siamo capaci di generare più di 1200-1250 interventi quando siamo a pieno regime. Nel periodo Covid siamo, nonostante tutto, riusciti ad operare circa 1000 pazienti all'anno. I risultati sono, devo dire, molto buoni. Mediamente in Italia la mortalità è intorno al 3-3,5%. Per tutti i pazienti che afferiscono le diverse carte di chirurgia, noi dal 2019 siamo intorno all'1%. 0,9, 1, 1,1%. L'università gioca un ruolo centrale in tutto questo attraverso la creazione, nella scorsa estate, in tempi record, di un centro di ricerca interdipartimentale per la chirurgia mini-invasiva e trans-catetere. Si sta producendo moltissimo lavoro e grandissimi risultati. Abbiamo pubblicato più di 30 articoli solo l'anno scorso. Abbiamo organizzato il più grande congresso di carte di chirurgia al mondo. Siamo stati secondi sulla società americana di carte di chirurgia. Quindi è stata un'affluenza di più di 5000 device connessi da 80 paesi nel mondo che ci hanno seguito. Uno scenario che rappresenta una grande fortuna per tutti i pazienti che hanno accesso a cure basate sulle più moderne tecniche e tecnologie.